Mai è una cosa che in realtà sto già... ...che parte per primo, poi darà la vettura a Fishbound, che è un genere... ...questa lotta, attenzione che... ...si sono toccate le due BMW, infatti Tamburini... ...cosa è successo? ...Tamburini aveva perso un mare di tempo... ...si, si, 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 penso avesse una furatura o qualcosa, ma non so... ...quindi la F-Corsa ha preferito far scendere in pista il più giovane del... ...anzi, non è il più giovane a livello anagrafico, ma il meno esperto del trio composto da Gai... ...Castro è appunto... ...che il traffico domenicale ti blocchi... ...esatto...